Grazie di cuore a tutti per il supporto che continuate a dare a queste serie nonostante le portiamo da un sacco d'anni Vi chiediamo semplicemente di continuare a supportarci quindi lasciate mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella Fatelo se volete che queste serie continuino fino alla fine del campionato che è molto vicino ragazzi Detto questo buona visione e vai col video Vai Mi sta a guardare così manco sa perché ormai Manno giù però perché sono signore eh Perché se doveva fare un'altra cosa qua, dovevo proprio fare bagno Bentornati e ben ritornati Se vi va di supportare i nostri contenuti, questo genere di contenuti, vi chiediamo semplicemente di continuare a lasciare mi piace Grazie a chi lo ha fatto e a chi lo sta facendo Iscrivetevi, attivate la campanella, non vi perderete più nulla ogni volta che pubblichiamo qualcosa anche su questo canale YouTube Mi rivolgo a quelli che ci seguono spesso, che apprezzano i nostri contenuti ma che ancora non lo hanno fatto Fateci questa cortesia, per voi lo so, non vi cambia la vita ma per noi invece la vita ci cambia Grazie se lo avete già fatto o se lo state facendo Primo canale, fantacabbo, pronostici di serie A, vi aspettiamo, non aggiungo altro, super video interattivi Canale extra calcio, ho fatto uno svuoto alla spesa da mettersi le mani ai capelli Tutti i canali qua sotto, in descrizione, come sempre compariranno qui durante il video, stava a fare così, stava a fare Atalanta-Fiorentina e Inter-Napoli, su, 1x2, gol in qualsiasi momento Gol do gol, parziale secondo tempo e risultato esatto per entrambe le partite Vi ricordo che, gol in qualsiasi momento, se beccato, il risultato esatto, se beccato valgono due punti Tutte le altre se beccate valgono un punto ma c'è un problema di fondo Qua dovevamo fare una scelta drastica Atalanta-Fiorentina, ragazzi, non ha giocato Quindi, dovevamo scegliere No, perché qualcuno potrebbe dire Aspettate quando recuperano No, no ragazzi, perché se dobbiamo aspettare Non avremmo potuto dare i risultati da niente Congelare completamente Vale per entrambi Quindi stasettimana ci sfidiamo solamente in Inter-Napoli Una sola partita Io credo che sia la soluzione migliore da fare La cosa più eva, sì, assolutamente Perché se no veramente saltavano i risultati di stasettimana Poi dovevamo aspettare la fine del campionato Non ce può fare, ragazzi, diventiamo pazzi Quindi Inter-Napoli 1-X, 2 che ci hai messo? 1 X l'ho indovinata io Goal in qualsiasi momento Lautaro Osimène? Beccata... no Non ha segnato Lautaro Goal o gol? Goal Anche per me beccata entrambi Parziale secondo tempo L'hai beccata da Emery Gord No, ho messo 1 Io ho messo X, quindi era 2 Ah, sì, si è pareggiato con Gerson Appareggiato a Napoli Giusto Risultato esatto 3 a 1 1 pari Beccata in pieno Quindi questa per me vale doppio Di conseguenza io faccio 4 punti totali Eh, io 1 solo Mazza è botta T'ha detto male perché purtroppo Poi non si può mai sapere Avessero giocato Capace pure che la beccavi tutta tu Capace che beccavo più io Che me le diceva pure peggio Capite? Quindi a parità delle situazioni Sti cavoli, ragazzi Bisogna ovviare alle situazioni che si vengono a creare The show must go on Punti totali e scontri diretti Da quando abbiamo cominciato Tu c'hai 93 punti Quanti ce l'ho io? 110 104 Ancora Tiziano Ferro 111 100 Per chi segue Di grande Tiziano Mi ricordavo 101 Un abbraccione L'album con cui hai esordito L'album ad esordio Non è il top Però secondo me No vabbè Sono tanti di livello Grande Tiziano Un abbraccione Sono te la dino È proprio te la dino Esatto Incontrato pure una volta Io tra l'altro a Latina Persona umilissima Gentilissima Chiacchiera Come niente fosse Scontri diretti Se tu c'hai 11 punti 11 vittorie su di me 15 tu Purtroppo 14 Però qua è ancora Tutto È ancora aperta Tutto completamente aperto Sono tre Nuova sfida Ma perché sta a mezzo Ah no perché è quella dei risultati vecchi Dico ma perché le scelte sue stanno a mezzo No non l'avevo Ok Nuova sfida Eccoci Questa settimana ci sfidiamo E vi sfidiamo in Dovevamo scegliere i 3 big match 2 Qualcuno potrebbe dire No potrebbe fare tutti e 3 big match No ragazzi Sennò diventava una cosa impossibile Un po' Napoli-Atalanta E Lazio-Juventus Ci sfidiamo e vi sfidiamo su 1x2 Ammonito che ritorna a grande richiesta Underover Parziale Parziale normale Non secondo tempo E risultato esatto Vi ricordiamo Se beccate Ammonito E risultato esatto Valgono due punti Tutte le altre Se beccate valgono un punto Vince chi fa più punti Fate il vostro gioco Qua sotto nei commenti Napoli-Atalanta 1x2 E che cavolo Pure per me Ammonito Con l'asinac Veniva riportato Un ballottaggio Con Chien Io ho messo Chien Ammonito Chien Tu hai messo Quello che potrebbe giocare Posto Ho fatto caso Stamballottaggio Ho fatto caso io Ok Quindi Uno dei due Però in quel reparto In quel stesso Ammonito Ok No che poi con l'asinaccio Gioca sulla sinistra E Chien Devo che ci penso Però gioca centrale Però il ballottaggio Veniva riportato così Vabbè Ander over Over Ander Parziale Uno Due Risultato esatto Due a due Quindi tu due a due Cioè quello che io facevo sempre L'anno scorso E che beccavo mai Questo anno faccio sempre Uno E non becco mai uguale Volevo fare la mattata Mi vuole mettere Tre a tre No Mi vuole mettere tre a tre No Guarda finisce E se sta di Napoli Io Gioca due a tre Lazio Juventus 1x2 Che ci hai messo 1x Già t'ho capito Ammonito Cataldi Gila Gila Ma col nuovo modulo Gila da quello che ho capito Gioca Terzo di difesa Braccetto a sinistra A sinistra Sì Da quello che ho capito Under over Over Under Parziale 1 X Risultato esatto 2 a 1 1 pari Io 2 a 1 pari Tu 2 a 1 pari Lazio Non è così impossibile All'esordio di Tudor In casa C'è posta Nuova ondata di freschezza Chissà Risultati Segna o non Segna Prima dei risultati I nostri giocatori bonus Riportate pure i vostri risultati Qua sotto nei commenti Se avete partecipato Tiè Hai beccato? Come no Bremers Pure io Io fazio Niente Risultati Segna o non segna Stasettimana toccava a lui Sceglie Deve proporre A me deve proporre a voi Ma prima Vlaovic Segna o non segna Abbiamo detto sì Entrambi E non ha segnato Mi pare che sa nulla proprio Tra l'altro No È stato esculso No no Ce n'è un altro Che Mo ci arriviamo Reteghi Segna o non segna Sempre Io e Genova Tu hai detto sì Io ho detto Tu hai detto sì Io ho detto no Scusatemi Non ha segnato 1 a 0 per me Lautaro Martinez Segna o non segna Hai detto sì Ho detto no Era Inter Napoli Indovinata io 2 a 0 per me Osimem Segna o non segna Tu hai detto no Io ho detto sì Non ha segnato Non ha giocato Si annulla Era questa Che si annullava Rimaniamo 0 a 2 per me Mancini No Mancini Allenatore No Mancini da Roma Ammonito o non ammonito Entrambi abbiamo detto No Non è stato ammonito 3 a 1 per me E Skorupski Gli segnano O non gli segnano Se tu hai detto sì E io ho detto sì Che ha fatto Skorupski Non ha piato gollo Non ha piato gollo Quindi 3 a 1 per me Punti totali e scontri diretti 91 punti per te 100 13 109 109 Pensate di 104 No È già passato pure qua Scontri diretti Mi hai battuto 10 volte Quante volte ti ho battuto Questa ha indovinata Vai Proponi Ti serve la penna Sì ma ce l'ho Biragi Osimè Scamacca Ah mi dici tutte e due A coppia Visto che riguarda la stessa partita Napoli Atalanta Cominciamo da Osimè Allora Osimè L'ultima volta Vabbè si è annullato Io avevo detto sì E allora sto giro segna È al Maradona Al Maradona Segna Pure per te Segna E te pare Scamacca Scamacca Napoli Atalanta Non so sicuro manco Che gioca titolare Lo riporta All'ottaggio 51-49 Non segna Te pare che è in gioco Boh diceva 51-49 Non mi ricordo con chi Io pure ho detto da no Bene perfetto Poi Lazio Juventus Immobile Ciro Immobile Segna Ciro Immobile Segna su calcio di rigore E ci può Schiappa in gioco proprio Tu Mi ho detto da no Strano Poi Chiesa Che purtroppo ragazzi Vlaovic non ce sta perché Spanificino Che è una cosa De quelle Dico la verità Ken non me la so sentita Ma non è manco sicuro Io ho letto che Il Diz Ken è ballottato È quello Cioè Ken C'è tra quelli No Non segna a chiese E andiamo avanti Con Martínez Quarta Ah pensavo Martínez Su un giro Ha morito Non ha morito Fiorentina Milan Ha morito Non ha morito Non è No Non viene Ha morito Non viene Ammonito Per me invece sì Tu che dici sì Una volta ogni cento anni Perché me lo sono andato a capo Io ho mezzo al mazzo Ho detto fammi via qualcuno Che forse C'ho l'impressione Possa essere ammonito Ah ok Ma sei andato a guardare La statistica È uno dei più ammoniti Da Fiorentina No Ti dico la verità Non li guardo Che bucia Non le guardo Le statistiche degli ammoniti Che bucia Svilar Lo prendo o non lo prendo Aspetta È Lecce Roma O via Sì Era un deciso Fino all'ultimo Però Doviamo pure per te La via Stai mettendo tutto uguali No Dobbiamo scegliere Prendi Devo portare un blocchetto No C'hai Il calciatore bonus Sì Il telefono Guarda Non metto lo stesso Quante lettere ha? Io sono deciso Uno da 5 Oppure Uno da De più Molte de più Tipo 9 No Maggiore non è uguale 10 Gianni Chedda Sbibibibibil Molto 3 2 1 Ma che te si è inventato E chi era quell'altro? Romagnoli Romagnoli Della Lazio Io sono andato su Danilo Nella fine ho messo Posh Posh Sacca Posh Le vostre scelte qua sotto nei commenti Thank you for the vision Alla prossima See you on the next video Yeah Ciao